La Multistrada 1.2 Enduro La Multistrada 1.2 Enduro dà la possibilità di scegliere 4 riding mode. Ogni riding mode va a modificare la risposta delle sospensioni, dell'ammortizzatore posteriore e delle forcelle. All'interno di ogni riding mode è possibile scegliere il load mode. Il load mode va a modificare la risposta degli ammortizzatori in base al carico. Per entrare nel menu di scelta dei riding mode, tenere premuto per 2 secondi il tasto 2. Ogni volta che andremo a ripremere il tasto 2, andremo a scorrere i vari load mode. Per selezionare quello evidenziato, tenere premuto per 2 secondi il tasto 2. I load mode disponibili sono pilota, pilota più valigia, pilota più passeggero, pilota più passeggero più valigia. Oh 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 ooo oh 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 Grazie.